buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola come amo definire la mia ipnosi che proviene direttamente da los angeles beveri hills e che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale di milton erickson di development di brian weiss ottimi ottimi e ottimi ipnosi ma non ha nulla a che vedere neanche con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film detto ciò rispondo ad un signore che mi parla di acufene fischi nelle orecchie rumori ring ring sibili ronzi l'acufene se tu soffri di questa cosa di questo problema sai che non ti fa dormire non ti fa vivere ok la causa è psicosomatica che significa la parola psicosomatica significa che proviene dalla testa dalla testa e si trasmette al corpo in questo caso all'udito fatti la domanda quando è successo questo problema a te o anche un tuo caro che cosa è successo dal punto di vista emotivo uno shock emotivo un'emozione negativa brutta ricordati anche a livello cosciente cosa succedeva quando un attimo prima qualche giorno prima o qualche secondo prima che ti capitasse questo problema dell'acufene quella la vera causa indelebile finché tu non entri nel subcosciente la elimini che ti sta causando questo fastidio che non ti fa dormire la notte che ti stressa che ti porta a prendere decisioni veramente sconsiderate ok contro te stesso te stesso contro gli altri per cui bisogna porvi rimedio ora tu hai tre possibilità per uscirtene da solo o con la medicina tradizionale però da quanto so io non c'è nulla che ti possa aiutare oppure sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona che abbia già però affrontato casi di acufene perché nel mondo dell'ipnosi a parrescindere dal metodo la cosa più importante è la suggestione cioè la parola cosa mi dici per eliminare questo mio problema e non tutti sono artisti dell'ipnosi tutti sanno dipingere magari sono pluridecorati ma non tutti ottengono risultati quindi giudica te perché chi domanda comanda e poi la terza soluzione è da solo con l'audio mp3 dcs dal titolo no acufene che trovi sul sito internet www.ipnologiassociati.com il sito della mia associazione ipnologi associati che conta medici psicologi psicoterapeuti eccetera eccetera di caratura internazionale di los angeles beverly hills che hanno aiutato tantissima gente anche con un solo audio mp3 no acufene a togliersi sto problema e a dormire a vivere finalmente in pace con se stessi e con gli altri non devi credere al sottoscritto caro mio o cara mia non devi credere tu devi approfondire se vuoi approfondisci oggi hai l'università nelle mani che si chiama cellulare cellulare ok per cui approfondisci a prescindere dal sottoscritto chiedi al tuo medico curante anche se uno su cento medici conosce l'ipnosi sono anche c'è molta ignoranza anche nel mondo della medicina però siccome l'ipnosi vera professionale è riconosciuta come medicina alternativa dall'associazione medica mondiale 1958 dalla chiesa con papa pio nono benissimo tu puoi chiedere se lui è ignorante non sa cosa dirti cosa rispondere perché l'ipnosi non è altro che il potere della parola delle tue parole bene tu vai approfondisci vai su internet trova qualcuno di serio e accreditato poi ti siedi domandi perché chi domanda comanda e capisci cosa può fare cosa non può fare se già fatto non ha fatto eccetera eccetera se no se non hai voglia di girare cappello oppure il tuo carro non vuole essere aiutato a prescindere dall'uscire di casa non vuole non vuole c'è tanta gente ragazzi bambini adulti anziani che non vogliono essere aiutati perché sono pieni di sensi di colpo uguale punizione quindi si puniscono da soli non facendosi aiutare allora solo in quel momento solo in quel caso tu puoi scaricarti in completo anonimato nella completa privacy da qualsiasi parte del mondo l'audio mp3 molto potente professionale fatto di parole naturali senza nessun effetto collaterale senza nessun danno bla 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 e senza essere manipolati perché sei tu a scaricare a premere play parole trasparenti semplici naturale ma create ad hoc ad arte dal titolo no acufene che trovi sul sito internet www.ipnologiassociati.com premi play non pensi non partecipi non metti gli auricolari e la magia la magia della tua mente succederà ok fammi tutte le domande del caso visita la mia nel mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid la chiave che gli può far cambiare veramente la vita come è successo a me nel 2008 e anche mio padre che stava per morire colpito da un ictus fulminante che lo ha fulminato e paralizzato per tutta la metà della parte destra come dico in altri in altri video eccetera eccetera e visita anche la mia fan page ipnosi del dottor claudio saracino visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e conclusione delle conclusioni vai sull'anset life documentati documentati e fidati che solo l'ipnosi può eliminare questo enorme fastidio che ti sta ammazzando a dir poco te e i tuoi cari ok un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e alla prossima